Mentre dormi, Federazione Galattica della Luce, punto HAKET, attraverso Antea, luglio 2024, a cura di VB, Ardek, adorato nostro, operiamo in te purificando il tuo corpo che, come sai, ospita il tuo spirito, rinnovando la tua energia per mezzo dell'attivazione di connessioni neuronali che consentono alla ghiandola pineale di produrre il suo divino liquido linfatico durante il sonno. Mentre dormi, il tuo corpo viene da noi medicato ed a volte esci da esso per facilitarci la decalcificazione della ghiandola pineale in modo da risvegliare gradualmente la tua natura maleiana e spirituale, nonché le facoltà psichiche. A volte ti svegli con una sorta di cerchio alla testa e con un bruciore agli occhi, il tuo sentire è più intenso ed accusi qualche sbalzo energetico. Non temere, siamo stati noi. Figlio, vorremmo che tu ti recassi di sera al Gianicolo per pregare con noi, contemplando il cielo. Puoi andare in compagnia, ma senza svelare il perché a chi ti accompagna. Vi faccio dono di questa preghiera che per noi consiste nell'evocazione costante e continua dell'amore cosmico. Potete divulgarla. La luce è in me, con me si dipartono i suoi infiniti raggi. Ogni raggio è un fratello ed una sorella, insieme, io li amo. Amando loro amo me stesso. Amando me stesso amo l'universo, poiché anch'io sono uno degli infiniti universi che lo sostanzia. Così è, da sempre e per sempre, sempre. Ti abbraccio di luce immensa. Nota bene. Rispondo alla tua domanda prima ancora che tu la ponga a tua sorella. Il Gianicolo è in realtà un'altra delle nostre stazioni più antiche.